Amava pescare col nonno, amava cacciare con il papà, non amava tanto andare a scuola, amava la vita. Un giorno a 11 anni quando vide da casa sua un gruppo ciclistico, si chiamava Gruppo Ciclistico Fausto Coppi, con dei ragazzini che si stavano allenando, restò affascinato. Prese la bicicletta di sua madre, una bicicletta da donna, scassata, e andò con questi ragazzini. Ebbene in salita riuscì a staccarli, malgrado loro avessero un'attrezzatura super tecnica. È nato così il grande eroe Pantani. Noi oggi parliamo del giorno della sua morte, un giorno molto triste, di quello verdoso, di quel mistero che ancora resta, di molte pagine che dobbiamo ancora scrivere noi giornalisti, ma anche la storia dello sport. Piace però ricordare invece il ragazzo triste, a volte solo, che sapeva dominare soprattutto in salita, che sapeva vincere il giro e il tour nello stesso anno, costretto a scendere dalla bicicletta proprio non lontano da qui, a Madonna di Campiglio, in quel giro d'Italia che ricordiamo tutti con un'emozione molto negativa, eravamo sconcertati, perché lui ci aveva emozionato per giorni e giorni. Aveva riportato il grande pubblico in tv, perché per vedere Pantani, il pirata, che scalava con leggerezza le montagne dell'Italia e dell'Europa, ci si poteva fermare per un istante, lasciare il lavoro, seguire le sue orme, seguire le sue imprese. La sua è una storia anche triste, però quando è morto i genitori hanno scoperto che donava molti soldi ai bambini in difficoltà, alle persone malate di mente e quell'impegno va avanti con una fondazione, a dimostrare che la bontà di Pantani è davvero quella di un eroe.